Musica Matteo Kira quando chiami l'agentotistia però non è tanto rispettoso Hai ragione non devo farlo più Devo smetterla di dire queste cose ed essere più family friendly Se mi gravi la granata Oh cazzo No arriva Spooderman Scappa Power scappa Ho sentito uno Spooderman raga Mi hanno già ciucciato tutti Ufff Ma che era Deluxe Delu mi stai stream sniperando Oh ma ammazza Ma ammazza Porca madosca ma ammazzava questo No What No 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 Grazie a tutti No, non lo voglio usare Non voglio fare il maiale Non lo farò Non lo farò Non cedrò No, non lo prenderò Ho deciso, non lo prenderò Sono una persona retta Nel senso che sto in piedi Sono retto e corretto Non lo faccio No, non lo prenderò Non ci credo Lo stavo a fare Lo stavo a fare Lo stavo a fare Spider Allah Non ci credo Me lo stavano a fa contro Non ci posso credere Ma Ti giuro, se ti giuri Se ti giri con la doppietta No, urlavo se no Se si girava con la doppietta E mi struttava Urlavo Ma l'avete visto ragazzi Che cazzo stava facendo Quello col rampino Ma Poi dici che non ti deve salire il nazismo Manco ci arrivano i colpi là giù Porterò qualcosa altro al tuo forno Ha portato un sacco di altri giochi Non ci credo Oh 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 Ehi Non ci credo 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 Ah No, no, no Spooderman, no Regà, ho visto Spooderman Dio, che ansia Spooderman Ah, pure perso le 20 bombe Grazie Ma se metto la canzone Dell'Isis su YouTube, mi banno, no? Tipo Quando il tizio mi si è lanciato addosso con il rampino Il lancia cazzi Ma quello con il cecchino di prima Parito Esiste questa parte di mappa? Da quando esiste questa parte di mappa? Oh ah non voliamo a morire Sono successe cose Sono successe cose Ok Ciao So benissimo Che non doveva andare così Però sono successe cose Marzone Ho appena Ho appena failato le 20 bombe Perché poi uno si è andato a suicidare Non so dove E E quindi ora ne faccio 19 Quindi still curse da F Ma hai dato un mommore Ecco alla Mamma mia sentilo come scarta Sentilo il mio Ma no per cazzo va a sentirti così Marzo perché tu il tuo microfono Quando non parli ti si alza il giro Il tuo microfono è una merda Oh ma stava lì veramente Ho sparato a caso non c'ho il wallhack giuro Giuro non ho nessuna tipologia Di shit wallhack o cose strane Allora 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 Marzone di una frase per youtube Per salutare youtube Saluta youtube Sono ricchione Vabbè saluto Ciao youtube sono ricchione Ciao youtube sono ricchione Mi raccomando Scrivete in chat Lasciate un like ragazzi E benvenuti a tutti Nella dpg 333 youtube Nelle scare guys Ora nei commenti Ci dovete scrivere Perché vi siete iscriviti a questo canale Di merda No no Non è di merda No 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 no